Sabato 15 maggio, buongiorno, benvenuti alla resegna stampa, occhio ai giornali, come sempre in diretta sul canale 17 di Fano TV, c'è il commento alla stampa del giorno, un puntuale come sempre. Cominciamo con il santo, vediamolo subito, il santo di oggi è Sant'Isidoro, il sole è sorto alle 5.43, tramonterà alle 20.31. Allora, per quanto riguarda il tempo, questo è il sito della protezione civile delle Marche, il simbolo della pioggia che vedete, questo in realtà è già accaduto nelle prime ore, intorno alle 6 di questa mattina, è piovuto sia nell'Anconetano che nella parte meridionale della regione. Un po' di vento ancora per il quindicesimo giorno di fila, un po' di vento anche lungo la costa. Poi la giornata di domani sarà ancora caratterizzata da un po' di precipitazioni, isolati rovescio temporali nelle zone collinari montane nel settore meridionale della regione. Lunedì 17 invece il cielo sarà sereno, poco rovoloso, qualche isolato piovasco nelle zone collinari e montane. Poi instabilità per le giornate di martedì e mercoledì. Prima pagine, Corriere Adriatico, edizione di Pesaro, Sanità e Orari, scoppia il caso. L'area Vasta 1 tenta di riorganizzare le sue strutture con ferie coatte e doppi turni del personale. Per i sindacati l'operazione favorisce il privato, provvedimenti contrari alle norme contrattuali. Centropagina La Cronaca, pick up contro un'auto, schianto fatale, muore un pensionato, una ragazza invece è rimasta ferita e sotto stop al New Jersey lungo le Sirigate a Pesaro. Anas però ricorre al Tar. Ladro al ristorante di Umberto Carriera con tanto di arresto e condanne. Poi ricovera in discesa l'avanzata dei vaccini, svuoti le parti Covid. Sotto nessuna indagine sul TSO, ne procediamo per plagio. Sono le parole della procuratrice Tedeschini sui riflessi penali del caso. La sequenza dei fatti è quella precisata dal sindaco. Mentre incubo contagio per il Fano è a rischio il match di oggi. Il Cardino di Pesaro invece è la fotonotizia per il Green Pass. Chi l'ha visto? Nessuna direttiva dal governo. Agenzie e viaggi smarrite, così si rovina il settore. Risveglio vaccini, 1.100 in un giorno. La quota raggiunta ieri all'Aristò e a Muraglia dopo la fase di dose a rilento e oggi possono prenotare 50 anni. Schianto fatale sulla provinciale, 87 anni di Borgo Santa Maria muore a bordo del suo pick-up. E ancora, tra le altre notizie in prima pagina, razzie in tre locali. Un 22enne arrestato, attentato anche da Carriera. Silvana Ratti invece che vuole allargarsi, occhi sulla Banca d'Italia. Nel Mirino infatti la vecchia sede e ancora di taglio basso lo Sporta. Altri casi sospetti, l'Asur blocca il Fano. La situazione della pandemia nella nostra regione. Intanto va detto che la prossima settimana saremo di nuovo in zona gialla. nonostante i casi di contagi siano comunque in aumento in alcuni comuni, come per esempio a Morrovalle, anche se poi lunedì 10 maggio i casi registrati erano 70, a Morrovalle ieri invece il dato era sceso a 63. Mentre a Montecassiano per esempio è successo l'opposto, cioè 44 i positivi all'inizio della settimana, che poi sono saliti a 54, quindi 10 persone in più nella giornata di ieri. Per quanto riguarda invece la città di Acqualagna, i casi sono passati da 69 di lunedì a 72, mentre a Petriano sono saliti da 52 a 56 tra lunedì e la giornata di ieri. Quindi l'incidenza diciamo è in aumento, soprattutto nelle province di Ascoli e in quella di Pesaro e Ubbino. Ma Lorenzo Sconecchini questa mattina scrive un articolo interessante, perché i confronti sono sempre abbastanza utili, anche per avere un'idea, farsi un'idea di come stanno andando le cose. Allora i contagi sono alti, ma i reparti vuoti. L'effetto vax, cioè l'effetto vaccini, sui ricoveri. Ora il virus circola ancora, 10 volte tanto rispetto all'anno scorso, spinto dalla contagiosità delle varianti, soprattutto quelle inglese qui nelle Marche, ma i reparti Covid continuano, abbiamo detto, a svuotarsi. E i numeri sono questi. Un anno fa i ricoverati erano 207, 18 nelle terapie intensive. Ieri erano i ricoverati 328, 50 nelle terapie intensive, con un più 58% di casi che sicuramente non rispecchia la differente circolazione virale nei due periodi, attualmente il rapporto 10 a 1. La curva dei contagi un anno fa era sicuramente sottostimata, perché il sommerso degli asintomatici restava in gran parte sotto traccia, per il numero più contenuto dei tamponi. Per esempio, l'anno scorso si erano fatti 6.721 test molecolari nella seconda settimana di maggio, contro i 12.000, per cui il doppio dell'ultima settimana, a cui si aggiungono ogni giorno 6-700 test antigenici rapidi. Capite che poi in questo caso il confronto rimane difficile, o comunque si capisce che non può essere come l'anno scorso. per quanto riguarda i contagi. Il 32% invece dei marchigiani ha il vaccino anti-Covid. Intanto gli over 80 sono quasi tutti vaccinati, perché siamo al 92,5%. Su una popolazione regionale di 1.400.000 abitanti, persone, in 471.000 hanno ricevuto la prima somministrazione. All'ospedale regionale di Torrette di Alcona, tra i 40 e i 60 Novax, sono a rischio di sanzione. 40-60 non sono pochi. Stop invece all'isolamento, basta il tampone, il turismo europeo può ripartire. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive il Corriere Adriatico, stamattina ha firmato un'ordinanza che prevede da domani l'ingresso con solo il tampone negativo, l'ingresso dai Paesi dell'Unione Europea e dall'area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, superando così il sistema delle mini quarantene di 5 giorni. Quindi cosa significa? Che tutti coloro che arriveranno da Paesi dell'Unione Europea, area Schengen, Gran Bretagna e Israele, se dimostreranno di essere negativi con questo tampone, fatto nelle ultime 48 ore, possono tranquillamente girare in Italia senza fare questa mini quarantena di 5 giorni. Ora, nella stessa ordinanza però, si legge che sono state prorogate le misure, perché qui la situazione è un po' più complicata, misure restrittive relative al Brasile, mentre si rafforzano i voli Covid-tested, ossia sicuri sotto il profilo sanitario, questi voli aerei, ampliando i Paesi di provenienza a Canada, Giappone, Emirati Arabi Uniti, oltre che gli Stati Uniti. Queste compagnie aeree sono molto scrupolose, attente, eccetera, insomma garantiscono la sicurezza dei passeggeri che arrivano qua da questi Paesi, che quindi poi non c'è bisogno di trattenerli e quant'altro. Brutte notizie invece per la squadra del Fano Calcio, l'Almaio Antiuspano perché? Perché è ufficiale, c'è un focolaio e sono in parecchia ad avere i sintomi e il virus. L'Asur mette il Fano in quarantena per Covid, scrive Davide Eusebi, ieri il documento che certifica il rischio dei contagi, la partita con Limolese di oggi alle 17.30, una partita di andata dei play-out, dunque sarà rinviata, anche se il comunicato ufficiale non è ancora arrivato da parte della Lega Calcistica, sarà, comunque arriverà nella giornata di oggi, sancirà il rinvio, ma ci sono tre positivi, Brero, Bruno e Scimia, tre tamponi dubbi che si devono riprocessare e altri tre giocatori negativi, ma che però accusano chiari sintomi da Covid, quindi che non stanno proprio bene. segnali chiari che all'interno del Fano dunque è in corso un focolaio e che la partita di oggi non si giocherà. A decretarlo è stata la stessa Asur che il rimattina ha messo in quarantena il Fano per l'alto rischio di contagio da Covid. Sul Green Pass, questo foglio, documento, tessera, non si sa ancora cosa avremo, oppure semplicemente virtuale perché lo si potrà scaricare o attivare attraverso il cellulare, insomma il Green Pass è questo sconosciuto, potremmo dire, perché in Regione non ne sanno niente, scrive il resto del Calino, l'ipotesi del patentino vaccinale stenta ancora a decollare, la dirigente regionale di Furia dice speriamo che a breve arrivino le linee guida. Insomma, ora che arrivano le linee guida, ora che ci capiamo qualcosa, ora che è già finita l'estate, ti saluto. Guida un pick-up e travolge, qui siamo alla cronaca, sul Corriere batte la testa sul cruscotto e muore, purtroppo si tratta di un tragico schianto avvenuto in Via Lancisi dove ha perso la vita un'ottantasettenne del posto, ferite e shock invece per la ragazza che era al volante dell'auto che si è vista in mezzo sbucarla all'improvviso sul lato destro, il fatto è accaduto poco prima delle dieci circa di ieri mattina a metà strada tra Borgo, Santa Maria e Pozzo Alto. Mentre nessuna indagine sul TSO, ne procediamo per plagio, la procuratrice della Repubblica avvalla la ricostruzione del sindaco, il reato di plagio è stato abrogato 40 anni fa, dunque secondo quello che scrive Lorenzo Furlani questa mattina sul Corriere non ci sarà appunto nessuna indagine, la sequenza fattuale che risulta a me, spiega la responsabile della Procura della Repubblica, è esattamente quella che ha riposizionato il sindaco di Fano. Il TSO non è stato fatto perché il ragazzo non vuole la mascherina, bensì per quanto è successo in seguito al pronto soccorso. La mascherina e il TSO hanno una contiguità che è stata solo fattuale, ma non casuale. Ora, che cosa sia successo all'interno del pronto soccorso? Questo chiaramente ancora non lo sappiamo. Non sappiamo se lui è andato in escandescenze soltanto, come dice poi giustamente sempre Furlani sul giornale di questa mattina, dopo che ha saputo del TSO e non prima, quindi non può essere la causa di questa sua ribellione anche fisica. Quindi che cosa sia successo esattamente nel pronto soccorso? Questo ancora non lo sappiamo, almeno giornalisticamente non lo sappiamo bene. sappiamo solo che ha avuto qualche reazione, ma pare che sia dopo. Quindi perché sia stato deciso questo TSO? Non lo sappiamo. Mentre non c'entra nulla il discorso della mascherina, che comunque resta, a mio giudizio, un fatto grave. Dopodiché, la posizione di Fano TV, la posizione mia personale, visto le polemiche che sono venute fuori in queste ultime ore, la posizione nostra è chiaramente quella che abbiamo sostenuto sin da subito, sin da sempre, sin dalle prime notizie, che questo TSO al 18enne è un fatto, per prendere le parole, usare le parole di Saltamartini, un fatto abnorme, cioè una cosa che non sta né in cielo né in terra. Ma, ripeto, noi facciamo i giornalisti, poi c'è chi fa il suo mestiere, quindi, però, nessuna indagine, ne procediamo per il plagio. Queste sono le parole. E forse possiamo anche metterci un punto e chiuderla qua. Soccorsi in ritardo, muore a 58 anni. Questa è un'altra notizia che sul Corriere Adriatico trova spazio sulla pagina di Urbino, ma riguarda un fatto che è avvenuto a Pianello di Cagli, dove una persona è stata colta da malore, è stata soccorsa da un'ambulanza che è partita però da Urbagna, essendo quella di Cagli impegnata altrove, quindi ha dovuto percorrere circa 40 chilometri in piena emergenza, in quanto da Urbagna a Cagli sono 25 chilometri di distanza e 15 da Cagli a Pianello. Quindi l'uomo, quest'uomo di 58 anni che è stato colpito da malore, aveva già avuto problemi in passato e morto prima dell'arrivo dell'ambulanza, scrive Chiara Zalea nel giornale, nel Corriere Adriatico di questa mattina. perde l'equilibrio, ancora cronaca da Fano, perde l'equilibrio una gamba maciullata dalla moto zappa, un infortunio che è avvenuto in via Fattoria ad un 84enne che è stato portato via dall'elicottero, da Icaro all'ospedale regionale di Torrette e quindi si tratta di un secondo infortunio a causa della passione per i lavori della terra, scrive Foghetti sul giornale di questa mattina, dopo quello che si è verificato il 6 maggio scorso a Cannelle, una frazione del Comune di Fano in cui perse la vita, lo ricorderete, Nello Talameli di 95 anni di Carrara. Ora, quest'altro fatto è accaduto in via Fattori, nei pressi del circuito, questo fatto è successo alla trave. Ok, ne è rimasto invece coinvolto questa volta Giorgio Scarani, 84 anni, che è rimasto seriamente ferito tanto da essere ricoverato appunto al Torrette di Ancona con l'elicottero. Mentre c'è anche spazio questa mattina sui giornali per la conferenza stampa che c'è stata ieri sul Carnevale di Fano, Carnevale chiaramente che non è andato in scena nella versione invernale, lo farà invece per quell'estiva. Chiaramente sarà, come ha detto anche la Presidente ai nostri microfoni ieri del telegiornale, sarà un'edizione un po' più non sottotono, però con un chiaro e ovvio rispetto nei confronti di chi ancora sta lottando contro la malattia, sta avuto magari un lutto in questi ultimi mesi, insomma in tanti sono stati colpiti e dunque e dunque era giusto anche farlo in questo modo il Carnevale, non certamente facendo finta che non sia successo niente. Quindi giusto così, chiaramente sarà un, come è già annunciato, un'edizione dedicata a Dante Alighieri, al Carnevale Salgono in Paradiso gli innamorati Paolo e Francesca, la rivisitazione della Divina Commedia per l'edizione estiva nell'anno di Dante. Questa è la, cinque carri, avremo cinque carri nuovi, cinque carri nuovi nel comune, anche con quello del comune di Gradara per l'edizione statica nel weekend di fine luglio. Cosa vuol dire statica? Vuol dire che chiaramente non si muoveranno, saranno carri posizionati lungo il percorso, tra l'altro saranno un po' al mare, un po' al centro, ci saranno varie date, date che potrete trovare anche sul giornale di questa mattina. Le prime due saranno sabato 21 e domenica 22 agosto, un po' dislocate nelle varie parti della città, tra il mare e il centro storico. Andiamo ancora avanti con le nostre pagine. Allora, siamo adesso a pagina 15 del Corriere Adriatico, siamo a Pesaro, a Pesaro di viabilità si parla in questo articolo, New Jersey smontati sulle silicate, ma l'ANAS non ci sta e ricorre al Tribunale Amministrativo Regionale. Amministrazioni miopi che ostacolano la sicurezza dei cittadini, 19 pagine di ricorso, quel tratto è qualificato come punto nero teatro di numerosi incidenti, anche mortali. Poi sotto è ora di tornare a lavorare in presenza, dobbiamo correre, Ricci parla così ai dipendenti. Intanto, restando a Pesaro in via dell'Acquedotto, finalmente si ballerà. Finito l'iter burocratico durato 5 anni, l'ex stazione di pompaggio, quella pompaggio dell'acqua, diventerà un locale per spettacoli, eventi e fare serate. Avrà tre sale da ballo, di cui due con il palco per manifestazioni del vivo e questo è il progetto di Massima che vedete nella fotografia del locale che è in via di ristrutturazione in via dell'Acquedotto e quindi insomma, ci sarà questa quest'opera che darà la possibilità un po' di svagarsi ai pesarese non solo. A Fossombrone invece Valmetauro una strada troppo pericolosa a titolo Serve il semaforo intelligente in via Pergamino i residenti chiedono che il rosso scatti in base alla velocità dei mezzi i veicoli procedono molto velocemente con gravi rischi l'allarme anche dopo l'ultimo investimento guardate questa fotografia invece questo canoista con a bordo tutte queste queste ruote queste gomme d'automobile sono state recuperate le marmitte dei giganti un luogo straordinario bellissimo marmitte che sono state liberate dai rifiuti siamo sempre nella zona di Fossombrone e si parla in questo articolo di Roberto Giungi di questa operazione pulizia marmitte dei giganti con l'aiuto dei canoisti semplicemente da applausi e massima stima per aver ridato l'opportuno decoro a quel singolare sito roccioso a strapiombo sul fiume Metauro tre associazioni quelle del luogo i canoisti e Puliamo Fossombrone hanno dato una bella sistemata ma come si fa a buttare le ruote così ma veramente otto comuni più sicuri con 15 telecamere invece spostandoci un po' più su verso l'entroterra pesarese siamo a Durbania Davide Felici che è il comandante che vedete nella fotografia della polizia locale dell'alta valle del Metauro dal 2019 appunto dice con queste telecamere 15 telecamere in più avremo 8 comuni più sicuri l'unione dell'alta val Metauro blinda ingressi e uscite dei paesi così appunto rivela il comandante della municipale e questo renderà tutto quanto un po' più sicuro perché quando uno commette un furto in una di queste case in questi 8 comuni chiaramente una delle prime cose che si fa si va a vedere chi è entrato e che è uscito dal paese attraverso le telecamere bruciano 3000 metri quadrati di sterpagli e paura per un'abitazione di Montecopiolo sono intervenuti i vigili del fuoco di Maceratta Feltrea mentre andiamo a vedere la pagina della valle del Cesano perché sia il Corriere che il Carlino giustamente hanno dato spazio lo faremo anche noi la settimana prossima anche con uno speciale approfondimento al taglio del nastro di una azienda l'Arkansas che inaugura questo nuovo stabilimento produttivo siamo a Mondavio sempre del Pesarese in provincia di Pesaurbino taglio del nastro davanti a tutti i 130 dipendenti l'azienda è specializzata nella realizzazione di profili per l'edilizia vedete qui il momento il momento di questo taglio del nastro con l'applauso scrosciante dei dipendenti si continua ad incrementare la forza lavoro crescono le esportazioni andiamo ancora avanti offerta ratti qui torniamo su Pesero Carlino questo è un edificio che in molti riconosceranno siamo all'inizio del corso sulla destra c'è la palla di pomodoro c'è il mare a sinistra c'è la piazza piazza del popolo qui c'è Ratti nota boutique e questa è la banca d'Italia la vecchia sede a Pesero della banca d'Italia ora Ratti secondo voci romani la titolare della boutique di Via Rossini vorrebbe acquistare questo immobile il costo previsto 2 milioni e mezzo l'edificio è stato costruito nel 1964 si estende per 3200 metri quadrati e forse forse si è vicini alla firma ancora sul Carlino le pagine di Senigallia fondazione bilancio in rosso quasi 5 milioni di debiti presentati in consiglio e rendiconto quest'anno siamo sotto di 900 mila euro ma non ci saranno problemi per i nostri ospiti dipendenti e fornitori mentre l'altra pagina eccola qua di Senigallia ecco la bella notizia la buona notizia che l'imprenditore che è rimasto coinvolto nell'incidente lungo la statale 16 Montanari ecco pare che il peggio sia passato le sue condizioni rimangono gravi ma si tira un sospiro di sollievo l'imprenditore è rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla statale 16 i medici di Torrette però ora sono ottimisti lui ha 54 anni e martedì a Ponte Sasso di Fano all'altezza del ristorante Osteria Ginas è rimasto coinvolto con la sua moto appunto in questo incidente si era recato a Pesaro per effettuare il vaccino e stava viaggiando praticamente stava tornando a casa stava tornando in direzione Marotta in sella la sua Honda 1000 quando purtroppo ha urtato su un lato una Fiat 600 guidata da una 22enne di Fano c'è stato questo volo però insomma adesso da quello che si evince il peggio sembra passato ecco spiagge pronte a Senigallia per ripartire ma non bloccate tutti gli eventi turistici per i turisti molti stabilimenti hanno investito per rinnovarsi dicono i bagnini è un segnale per far capire quanta voglia abbiamo di tornare alla normalità le regole sono praticamente le stesse della scorsa stagione la gente ha visto come lavoriamo e quindi si fida e di conseguenza fidando stanno arrivando anche tante richieste per occupare questi ombrelloni intanto così per tirarci un po' su di morale nel senso che guardiamo guardando questa fotografia abbiamo una forse delle più anziane d'Italia la fabrianese Lucia Colonnelli che ha spento 107 candeline nella casa di riposo di Sassoferrato fatica a parlare ma sta bene 4 anni fa ha superato anche un'operazione e con questo chiudiamo con i 107 anni della nonnina di Ferro ci fermiamo qui ci salutiamo ci diamo appuntamento a lunedì mattina vi ricordo che questa sera andrà in onda 7 per occhio il magazine che racchiude le notizie più importanti della settimana invece 1 di mattina alle 7 torneremo per la rassegna stampa buon fine settimana a tutti grazie a tutti